Chi sono i candidati degli italiani all'estero? Che cosa propongono? Che cosa pensano sui grandi temi? Ne abbiamo interpellati i quattro in un doppio dibattito, due alla volta, che si è svolto in due giorni e due studi diversi, coppie che si sono formate casualmente in base all'agenda e agli impegni di ciascuno, partendo da una nostra scelta di chiamare i numeri due e non i capilista, generalmente più noti, già favoriti dalla posizione in lista e spesso più legati alle logiche di partito. Con l'eccezione di Simone Billi, deputato uscente dalla Lega, tutti gli altri erano alla prima candidatura. Zurigo, Bilbao, Nizza, Londra, vite vissute negli ultimi anni nelle loro città di residenza in Europa, tanti esempi virtuosi da portare nel Parlamento italiano se eletti, idee da copiare ma anche esperienze spesso complicate con l'organizzazione dei servizi del governo italiano per gli italiani all'estero. Simone Billi, ricandidato alla Camera, ha esordito snocciolando i dati del suo impegno tra un'assidua presenza parlamentare, oltre il 94%, un gran numero di atti interventi, l'azione per l'apertura dei consolati a Manchester e alle Canarie e moltissimi incontri con le comunità degli italiani all'estero. Di fronte a lui, Golan Tibu, candidato al Senato per Italia Viva, londinese di residenza, è conscio delle lunghe code nel consolato della metropoli britannica. Tanta azione per nulla, attaccava le code e i disagi sono sempre lì e proponeva di riprendere l'esempio britannico con appuntamenti fissati automaticamente e impronte digitali rilasciate imposte e passaporti che arrivano a casa. Piano irrealistico e demagogico, secondo Billi. Ne nasceva un acceso dibattito, poi un punto d'accordo e due lo trovavano sul sì al nucleare. Per Laura Albanese, candidata alla Camera per il PD, vanno profondamente riformati i Comites, i comitati degli italiani all'estero. Nella sua circoscrizione, nella Francia meridionale, su oltre 40.000 italiani residenti, solo 600 hanno partecipato alle elezioni dei Comites, diceva, e andava oltre, rivedere i conti, le fatture dei Comites per ottenere risparmi da usare per un fondo per le garanzie dei giovani italiani immigrati che faticano a trovare alloggio. Stefano Balvi, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle, annuiva sulla necessità di riformare i Comites, ma su questo erano d'accordo anche gli altri due candidati. Si presentava come candidato di riferimento per i giovani, focalizzava molto il suo intervento sui temi socioambientali, che sono l'oggetto del suo lavoro da ricercatore, e lamentava l'assenza in Italia di un fronte unitario progressista su questi temi.